Italia Online lancia un nuovo prodotto, E-All Audience Custom, un'offerta per pianificare campagne pubblicitarie online dedicata alle piccole e medie imprese. Il prodotto, una nuova versione di E-All Audience, permette di costruire un'audience personalizzata per le PMI su cui effettuare campagne di marketing e remarketing. E le piccole e medie imprese, spiega Antonio Converti, amministratore delegato di Italia Online, sono un segmento su cui l'azienda intende puntare. È il potenziale mercato o platea di clienti più interessante per noi. Noi su questa platea abbiamo una market share abbastanza piccola, solo del 7%, e quindi ci poniamo un obiettivo di crescita piuttosto sostanziale. Con il nuovo prodotto sarà possibile raggiungere con campagne di digital advertising un gruppo di clienti che in rete ha dimostrato interesse almeno una volta per i prodotti e servizi dell'azienda cliente di Italia Online. Noi abbiamo sviluppato una tecnologia che permette anche alle aziende con budget pubblicitari più piccoli di accedere a tecnologie che prima erano riservate soltanto ai grandi clienti. Diciamo abbiamo un po' democratizzato la tecnologia pubblicitaria con l'obiettivo di dare più opportunità ai nostri clienti. Un servizio possibile per le capacità di Italia Online di selezionare e profilare per intenzioni di acquisto i visitatori della sua mail e delle sue directory. 10 milioni di utenti attivi iscritti alle mail di Libero e Virgilio e un audience di 18 milioni di persone. Con Yolodils Custom noi siamo in grado di fornire ai nostri clienti un servizio chiave in mano che consente di targettizzare la pubblicità su Google, su Facebook, su Bing, sul network Italia Online solo a quegli utenti che abbiano dimostrato una reale intenzione di acquisto rispetto a quel prodotto o servizio.